benvenuti a meteo giulianci punto iti oggi martedì 21 febbraio sereno al nord e sulla toscana piogge invece sul medio adriatico isole al sud e nevicante fino a quote molto basse su marca abruzzo e molise per un centro di bassa pressione che insiste sulla sardegna ma esteso a tutta l'italia ma ecco la mappa del satellite virtuale che fa vedere appunto le nuvole sul meridione sulle isole maggiori che tempo allora farà oggi vedete il sereno al nord e sulla toscana le piogge sul medio adriatico e su tutto il meridione tranne la campagna le piogge anche sul lazio e sul nord est della sardegna temporali sul sud della sicilia per quanto riguarda le temperature massime queste resteranno più o meno invariate bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno grazie a tutti